Quando prendeva ancora la paghetta e non c'avevo soldi per andare al ristorante andavo sempre da trapizzino So tagliato per il grande schermo Che lui è come un umano di 80 centimetri che si vuole uccidere ogni 6 secondi Preferiresti passare 5 anni in carcere o 10 anni in coma? Eccoci qui, terzo episodio di Molecole Ribelli Buonasera a tutti ragazzi, come state? Buonasera, io benissimo Ciao, molto bene, grazie Mamma mia Tutti molto meglio di Gab, il forello Sì, che salutiamo Gab ragazzi Questa sera voi probabilmente non lo conoscete o l'avete visto soltanto in piccole dosi Ma è la terza forza di Molecole Ribelli Oggi è allettata È la prima forza È la prima forza, esatto Oggi purtroppo non ci sarà un format molto divertente Ma che ci possiamo fare ragazzi Sarà per la prossima Esatto, esatto, esatto Stefano, ti vedo un po' impacciato a questo microfono? No, è direzionale Ho trovato la direzione giusta Perfetto, perfetto Mediano giusto Io direi di presentare gli ospiti se ce ne fosse bisogno Abbiamo qui Ruben Bondi Giusto? Cucina con Ruben Cucina con Ruben In cucina con Ruben E invece Stefano Calegari Che tutti conosceranno come Trapizzino? Ottimo Io direi di sì Qua ci sono più e più fan di questo prodotto ragazzi Io ho prima dichiarato a Ruben Che sono molto contento di tornare a Trastevere ad abitare Soltanto perché mi consegneranno due tipi di Trapizzino Perché posso vedere anche le varie disponibilità tra Testaccio e Trastevere Che non è poco ragazzi Non è poco Mi guardi così un po' sornione No, mi domandavo dove andassi a abitare Perché se hai Sia Trastevere Che sa Ah ok Che è proprio a metà Sì, sì, sì Tre e due L'ho scelto apposta Per la finanza lo diciamo Esatto Per quanto fatturi Se te lo permette Quando prendevo ancora la paghetta E non c'avevo soldi per andare al ristorante Andavo sempre da Trapizzino Ragazzi ma è un'istituzione che comunque sembra Come se ci fosse da 100 anni Ma in realtà non c'è Da quanto c'è? Ma è dal 1888 Beh io c'avevo 18 anni Quindi effettivamente sì E' quella da là E' quella da là Allora devi sapere che C'è una foto Noi abbiamo un locale L'Overside a Manhattan E c'è una foto bellissima In bianco e nero E sembra anni 20 Sai quell'Italy Italy E allora ogni tanto mi chiedono Ma dove nasce il Trapizzino Ma a New York è 1922 Poi non l'abbiamo adottato Invece no Era il 2 aprile 2008 A Testaccio Nel locale di Testaccio 2008 Ma ho sentito in un'intervista Che in realtà l'invenzione era un po' prima Ma poi è esploso dopo Può essere una roba del genere No diciamo che nasce il 2 aprile 2008 Lì a Testaccio Dove c'era questa pizzeria a taglio Che abbiamo aperto Eravamo quattro amici Così per giocare E tra pizza a taglio Su Plievo Ho detto ma io devo mettere La cucina romana Da entra la pizza bianca E così nasce il Trapizzino Poi dopo cinque anni Praticamente il Trapizzino Aveva preso una sua identità Abbiamo levato la pizza E c'era solo quello Quindi col tempo ha maturato E diventato quello che è oggi Ruben invece deve tanto alla pandemia Possiamo dirlo? Sì in realtà non proprio alla pandemia Pandemia Alla seconda pandemia Era proprio il primo lockdown Quello di questo gennaio Che ancora il covid era molto presente Io mi sono preso il covid Me l'ha attaccato il mio amico Andrea qua che salutiamo Siamo tornati da Madrid Ho scoperto di essere positivo Casa mia stava ristrutturando E allora ho detto Sai che c'è sto a casa di mia madre Nella mia ex cameretta Io devo cucinare tutti i giorni Se no Se no muoio proprio E ho detto Vabbè Mi faccio un video pure Mentre cucino un balcone E da lì poi è esploso tutto Hai visto comunque Prodotto assurdo Lui idea Alla fine un milione e mezzo Su tiktok C'è lui Sta fuori come un balcone Cioè è assurdo Io gli ho fatto questa battuta E ho detto Quante volte te l'hanno detto Io ho detto Ma hanno mai detto Ne ha battuto anni 90 In effetti ci sta Comunque io non ho presentato Come al solito Anche se ormai lo conoscono tutti Lo conosce tutta Roma Lo conosce tutta Trastevere Tutta Italia ormai Il patatone dei patatoni Marco Elvis Saludiamo ragazzi Un applauso Ciao a Marco Ciao a tutti Elvis Esattamente Lui Anche come te Ha un negozio a Trastevere Sì No io ho abitamento accessori Ok Però devo dire Vi volevo regalare il discorso della pandemia E dire Che io in realtà Sono stato grande cliente Del negozio Quello di Io sto a Montevideo C'è un negozio a Trastevere Abito a Monteverde E spesso poi durante la pandemia Sono venuto al negozio di Testaccio E lì mi ha colpito una cosa Infatti ne stavo parlando con Andrea prima Perché poi Sembrano cose stupide Però Quando sono passato Al vostro negozio Al tuo negozio Io mi sono Innamorato del packaging Dei trapizzini Perché Dico effettivamente Poi spesso Tante persone Ci hanno delle idee geniali Che funzionano Spaccano Però poi magari Si fermano All'idea E non riescono a curarla Al 100% Mentre Io ho notato Infatti ho detto Perché la ragazza Gentilissima Lì al bancone Mi ha dato una busta Io Sono entrato in macchina E poi Mentre tornavo a casa Ho aperto sta busta E c'era sta scatoletta Con tutti questi trapizzini impilati No? Ho fatto Eh cazzo è geniale Però sta cosa Non è che è geniale Adesso Ci hanno studiato Quindi È un pregio Perché secondo me È una cosa Che è poco italiana Questa cosa qua Però quello ti consente Di poter vendere Facilmente Fuori E soprattutto Io che me lo so portato a casa Non mi è arrivato Dentro in sacchetto Sfragnato E per carità Poi quello col pollo Col pollo La cacciatora È spaziale E io Ci fare il bagno Anche se mi arriva spalmato Non me lo mangio lo stesso Però che t'arriva perfetto Il primo cibo spalmabile Sì però che t'arriva perfetto Addosso però Nel senso È una bomba E Dico Perché Quindi Mi arriva la domanda Sicuramente Secondo me Andrea Questo L'ha fatto Non tu ma Andrea Andrea si mangia tre travizzini Non lo so Guarda Ma anch'io Ci avrei pensato Allora Tra i tanti Grandi soci Che ho Perché io penso Sempre la parte un po' Più frufru Più artistica No Poi c'ho gente Di Aero Accanto a me Che lavora In varie situazioni In questo caso Hai detto Non è italiana C'hai preso Perché Paul È il mio socio Uno dei due soci C'è il trapizzino Lui è nato in America Beh Italiano Da genitore Italiano Però è nato in America E mi ha detto Stai Dopomette C'è presente La scatola d'iPhone Da lì viene l'idea E poi mi ha detto Se questi stanno Sospesi nell'aria Non si stufano No E insieme Abbiamo studiato Sta cosa Quindi Te c'hai Sta scatola Come dici Te che apri Tipo la scena Di Parfiction Siamo contenti Ti illumini E allora Apri C'è questi Quattro trapizzini Oppure Due trapizzini E due suppli Che apri E stanno sospesi Nell'aria Quindi quell'aria Prima che si riempie Di vapore Rispetto a una bustina Stretta Che te lo fa A moshà Te arriva Ancora caldo Magari stiepitito Però non Rimane croccante E così Nasce quel packaging E poi è bello A vedersi Però funziona A proposito Di ispirazione Stefano ha citato Apple addirittura Comunque il tuo format È parecchio Diverso Cioè almeno io Non ho visto niente Cioè ti sei ispirato A qualcuno O è una roba Che è nata Proprio così Freestyle No è nata proprio freestyle E penso che funzioni Perché È una cosa innovativa Come dici te Diversa Però allo stesso tempo Lo dicevo prima a lui Magari Ti rievoca un po' Il passato Quando c'erano Questi condomini Molto popolari In cui erano tutti amici Che se parlavano Dalla finestra Che se calavano Il cibo Da sopra a sotto Da sotto a sopra Secondo me Rievoca un po' Quello Ne abbiamo bisogno Con il covid Che siamo stati distanti Non ci potevamo Parlare da vicino Dovamo stare ognuno Chiuso In camera sua A casa sua Quindi Secondo me Crea una convivialità Di cui la gente Aveva bisogno Adesso Ha creato questo E penso sia Per questo Che funzioni Ma cose Immagino che comunque Un format Che crea Un po' Di potenziali sorprese Cose assurde Che magari Ti sono successe Allora diciamo Che dopo un po' All'inizio Se non ci dici Niente di interessante Chiediamo Andrea Che sicuramente È disposto A dire più di te All'inizio Diciamo che La gente Magari era anche Un po' scettica Può fare un video Oddio Mi metti sui social Ma no Adesso me lo chiedono tutti C'è gente che mi scrive Posso venire Posso venire Diciamo Un po' di tempo fa Mi affaccio E vedo questa signora Signora Vuole fare il video Mi fa Ma sono brutta Sono struccata Faccio signora Non si preoccupi Fammo sto video Mi fa Vabbè Allora Aspettiamo anche Mio marito Vabbè Aspettiamo anche Suo marito Si è arrivato a 10 minuti Faccio vabbè Aspettiamo 10 minuti Ma poi intanto Stavo fuori A sistemare Le cose A mettere il tagliere A mettere le pentole Così no Mi riaffaccio E vedo che mi guardava Gli faccio tutto a posto Mi fa Possa napia pure il cane Vabbè Pappia pure il cane Esce da col cane Infatti c'è il video Iniziali Facciamo Che devo mangiare Lei Il marito Il cane E il marito Mi fa Fammi qualcosa Col pesce Ma invece Stai Devi visto la generazione Che comunque Spopola sui social Te che sicuramente Sei un po' più Vecchia guardia Non ti chiederemo L'età Anche se Comunque 53 Però C'è un po' Di scetticismo Sì Molto C'è tanto Te lo dico io Sì La voglia C'è tanto Ma io penso Che la forma Non fa la sostanza Cioè Purtroppo Si limitano A vedere Ti faccio un esempio Io Lavoro nella pizza Allora Quando è nata La pizza gourmet 10-15 anni fa No ma quella Era una focaccia Non è una pizza È una focaccia Ci appoggi sopra la roba Ma c'è spazio Anche per quello Se a un cliente piace Perché non darglielo E così come Cioè Lui che fa I video dal balcone Cosa toglie A uno Che fa Una carbonara Con il cucchiaio Sì Sì Capito Ma invece A proposito di pizza Che ne pensate Di tutto il dibattito Su Crazy Pizza Fondamentalmente è nato Che ok I prezzi sono alti Però Secondo me Combriatore Non è che paghi Soltanto il prodotto Perché se è lui che dice La pizza a 5 euro Com'è possibile Tassi eccetera Sto ricordandomi A quello che diceva lui Non ha totalmente torto Nel senso che Se lui c'ha gente disposta Esatto A pagare 1000 euro Pena pizza Col camon Perché non la deve fare Perché non la deve Eh a chi Dà fastidio Però Non è neanche Se non te ne va Non le vuoi spendere Non ci vai Se fosse dittatura Che tutte le pizze Costassero mille Però non è neanche giusto Dire La pizza napoletana È fatta con prodotti Scadenti Perché Quello che Quello che mi è dispiaciuto Di tutta questa situazione È che Il pizzaiolo Adesso non faccio il nome Comunque Chi l'ha visto Lo sa Non ho il dibattito Che è andato in televisione Il napoletano È anche bravo Non gli ha saputo rispondere Come gli avrebbe dovuto rispondere Secondo me Cioè si è trovato Un po' in imbarazzo Di fronte a lui Perché è briatore Che poi lo capisco Magari Trovo io E succede la stessa cosa Però Non ha affatto rispettare A Napoli Come avrebbe dovuto Secondo me Per quello che ho visto io E poi è molto più Mondiale Sorbillo Che Briatore Infatti Vabbè ormai Vorete No 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 Perché almeno lui piace Come Carabillo Come quello che Ma lui è un genio Gino Mi dispiace È più famoso Gino Che No sì Secondo me Secondo me La risposta Comunque gli ha Gli ha lasciato Diciamo Una contro risposta Facile A Briatore Io l'ho visto Mentre parlava proprio Stava molto proprio Non stava a suo agio Mentre parlava E comunque lui è un personaggio Che in televisione ci va Le cose le fa Anche sui social È molto presente Noi diciamo Che noi pizzagliori Dovremmo prendere la palla al balzo E dire Oh ma sai chi c'ha ragione Devo marzo ai prezzi È vero È vero Ma non per fare più soldi No e comprare Stava Ferrari Però per pagare meglio I dipendenti No no Ma infatti Secondo me Sì perché purtroppo È un mondo Dove Anche Qua siamo in un birrificio Giustamente una birra Un po' più costa 5 euro No E io so Da una vita Bevo birre Sono diventate sempre più piccole Ma aumentavi i prezzi E torno Ma la vita Ma non dico quello Cioè perché Purtroppo le cose costano No quello è chiaro Ma poi io sono dell'idea Che se una pizza Costa 50 euro Non è soltanto il prodotto Ma magari pure Tutta l'esperienza Che c'è dietro Cioè perché se ci sta Il capire che T'ha la tira Sì sì Magari Cioè non ti dà T'ha la tira dal volo Esatto Esatto Paghi 2 euro Perché magari 2 Te cascano E una prendi Prima di essere stato colpito Al trapizzino Ho pensato Gli hanno tirato un supplito Esatto Esatto Però là c'è Riflessi da mortiere Marco ha una delle sue Magliette più famose Perché Abbiamo capito Non lo conoscete benissimo Ma secondo me Qualcosa l'avete visto Ragazzi Poi dopo vi interroveremo Però Marco ha una delle sue Magliette più famose Che è La pizza non ti giudica Che è un po' Si ricollega Al concetto di briatore E comunque sorbillo Tutta questa Questa diatriba Marco Com'è nata la maglietta Per la pizza non ti giudica Perché la pizza non ti giudica La pizza ti vuole sempre bene Quando tu stai male E ti mangi la pizza La pizza non gli importa Se tu hai fatto Una giornata Cioè Sei stato cattivo o buono La pizza è sempre buona Manca la pasta Che c'è in trascuna No però la pizza soprattutto La pizza È proprio la classica cosa Che ti prendi La pizza Sì perché te la fai portare Non c'è nemmeno la cosa Che devi cucinare La pizza secondo me Non lo so Poi vicino al maestro Io mi ho messo qua vicino Io Nel senso Io sono Perché io sono Come si dice Super amatori Mini pizzaiolo Super amatoriale No quindi Sperimento Faccio delle piccole cose A casa così E E chiaramente Sta vicino qua Io mi sento Come sta vicino a Totti Volevo sapere Sono molto curioso Perché io allora Sono una pezzo Delle Delle più grandi pippe In cucina Della storia Della cucina Anche Andrea dice Perché forse È una questione di nome Però Mi rendo conto Che Al giorno d'oggi Visto che Quanti Anni Quanti migliaia di anni Ci sono Della storia della cucina Quanto è difficile innovare Secondo me È molto complicato Anche se Vi ripeto Non sono In grado Voi Secondo me no Non è difficile No secondo me Il bello di questo lavoro È proprio che c'è sempre qualcosa di nuovo C'è sempre da imparare Chi ama veramente questo mestiere Non smette mai proprio di imparare E di volerlo fare E Questo per quanto riguarda Proprio la cucina Per quanto riguarda I format Sui social Mo se sono inventati di tutto Praticamente ci siamo Inventati di tutto Però pure là C'è sempre C'è sempre qualcosa di nuovo da fare Ecco sentivo una Adesso non posso dire cosa voglio fare Che cosa vuole fare questo mio collega Però mi ha detto una cosa E ho detto Cazzo Non ci ha mai pensato nessuno Però Proprio per la cucina Secondo me Poi Magari Stefano Mi verrà d'accordo C'è sempre C'è sempre qualcosa di nuovo Cioè Cuciniamo regolare C'è tanta roba da fare Ma Che ne pensate ad esempio Della Impossible food Questa roba qui Quindi La carne Che non è carne Ah Io l'ho Beyond meat Io l'ho usata L'ho usata E ti devo dire Che è pure buona E Quello che dicono Magari Sì non la chiamare Però Non la chiamare carne Magari ci possono pure avere ragione Però posso dire una cosa Ognuno si mangia quello che gli pare È vero che Ormai ci inventiamo Le mode alimentari Non mangiamo cose proprio per scelta Per allergio Non parlo solo dei vegetariani O dei vegani C'è chi dice Questo non lo mangio Perché non gli piace O perché O perché è allergico Perché proprio È una moda praticamente Però posso dire Ognuno fa quello che gli pare Lo dico anche sui social Ognuno cucina quello che gli pare Secondo me non è giusto Soprattutto proprio sui social Attaccare le persone Perché fanno qualcosa Che non ti piace E dico attaccarle pubblicamente Ieri stavo parlando Con un collega E dicevamo che Non è solo il commentino Della persona Del follower No? Della casalinga O dell'avvocato Che ti commentano Il video dicendo Questo non mi piace Questo non si fa così La cosa brutta Secondo me Che succede molto spesso Sui social Che forse è dettata Anche un po' dall'invidia È la critica Da parte di un collega Sotto il video Perché è infondata Perché secondo me è infondata Perché se ti volessero dare davvero Davvero un consiglio O dirti Questo si fa così Te lo potrebbero scrivere in privato Il collega Che ti commenta Un video È dettato molto dall'invidia E dal voler mettersi in mostra Quindi quante cose Io vedo tutti i giorni Che non mi piacciono I sui social Cose che io non farei mai così Ma non mi viene mai Mai e poi mai In mente di dire Ma questo si fa così Ma che stai a fa Perché Perché lascia proprio Il tempo che trova Secondo me Comunque sull'innovazione Prima faceva la domanda Mi ha fatto venire in mente Una cosa che mi ha detto Bonci Tanti anni fa Che è un periodo Che frequentava Ferrara Adrià E mi ha detto Come dice il maestro Ferrara Adrià E il vero innovatore E chi non copia Certo Vabbè anche se io Sul Non proprio il copiare Ma su Prendere spunto Prendere spunto Quello è fondamentale Bisogna copiare anche con stile Diciamo che sui social Uno che sa cucinare Un piatto di pasta buono Lo fa vedere Ok È tutto come ti poni Secondo me La cosa più importante È essere proprio te stesso Sui social Io almeno sono proprio così Come mi vedi sono Ma penso che si capisce Sì oggi ci hai raccontato Comunque da un backstage Di un video Importante Brace Io Quando vengono Gente professionale No magari per Sponsorizzazioni Io la prima cosa Che gli dico è Sapete che io faccio tutto A Di cane Cioè non c'è niente Di preparato Nella mia mente Certo Infatti E questa grande cosa È così Se no no Una grande cosa Che mi ha colpito Della tua opera È la velocità D'esecuzione Cioè Ti dici Parli Fai Poi si vede che È sì No ma infatti La cosa Super complicata Infatti Li vorrei chiedere Che secondo me È uno dei problemi Che hanno un po' Tutti i creator Soprattutto di tiktok È che Comunque C'hai un minuto Adesso Un minuto e mezzo Però comunque Dei rendere il contenuto Divertente Interessante È utile Perché poi alla fine Non puoi fare una ricetta Che tagli in pezzo Completo Non è proprio il massimo Ti stai Ce la faresti Tosta In un minuto Immaginate Dovevi spiegare A chi doveva aprire Il locale Certo Cioè Come se fa la pizza In un minuto E lui questo fa È molto complicato La proprietà di sintesi È una grande dote Come dici te Non è facile Mettere tutto in un video La ricetta La simpatia Ma te prepari qualcosa O vai proprio freestyle Totale Io niente Niente Magari mentre guido la notte Dico Nel prossimo video Potrei di questo Però La maggior parte delle volte Veramente Mi dicono I vicini Cosa Cosa vogliono mangiare O comunque Mi dicono L'ingrediente principale Non è che c'hai sempre Dov'hai la notte Che guidi A gire il racconto Ti dico la verità Sono sei mesi Che faccio Sto video in balcone E sono soddisfatto Perché Quando vedo Le persone Che rifanno le ricette E io sono uno Che neanche mette le dosi sotto Non metto Nelle dosi Nei passaggi Cioè Devi vedere il video E lo devi fa Proprio come faccio io A occhio Così Perché deve essere Una cosa veloce A piacere Che te fai Con una padella E una pentola Non deve essere niente Di complicato Quindi Vedo che li rifanno Allora dico Arrivo Se lo faccio così Arrivo Ma posso proporre Un sogno? Dipende che sogno Stefano mi guarda Ho fatto un sogno L'ho chiamato Roma Ma Scusa Entra un bel trapizzino In balcone Io ho detto prima Fai un trapizzino In balcone No? Che ne pensate? Stai Non ti ho detto Convinto? Ah si Lo sto a pensare Comunque In balcone Il forno non ce l'ho Eh? In balcone Il forno non ce l'ho A presto Con l'accendino Qualcosa A parte che Con sto caldo Tu pannelli solari Qualcosa Sentite Dica la verità Poi stavo a dieta E la tua pensa Che sei in mezzo Stai facendo 8 Secondo me La seconda parte De Scambio Facciamo un brindisi Facciamo un brindisino Ragazzi A questo podcast Dal balcone Al trapizzino Col forno Dal bancone Spero che almeno Spero che almeno Ci avvertirete Quando lo farete Che ne pensate Assolutamente Siete vicini Perché tu Stai a Monteverde Io Natica Ti che zona sei Stai? Io Natica Cazzo Di fare una Cosa Con i congiuntivi A Roma È quello Però io prima direi Di mandare la sigla Che a Marco non piace La sigla Fa schifo Perché il format Del sumo La sigla L'abbiamo scelta Noi Io e Gab Che non l'avete conosciuto Stasera Però secondo me A voi Piacerà molto E questo vi dà La caratura Dei personaggi Lui e Gab Dopo sta sigla Decidete voi Se rimanere Secondo me piace Io la mando Possiamo alzare Il fore Mentre la Ma vai La commenta La voglio godere tutta Bellissima Eh certo Perché loro mettono Questa sigla Perché siccome È una questione Faccio delle domande In cui dovete scegliere E motivare La vostra scelta E Dovete decidere Se essere più Raimondo Pianello O più Sandra Bondaini Ok Hai visto Infatti Però spiegata così Perché a lui Non mi piace la sigla Te l'ha spiegata ovviamente male Non è Non devi scegliere Se sei Raimondo Pianello È in generale Vabbè Partiamo che è più facile Vai 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 Che vuol dire in generale Vabbè Vabbè Dai basta Lasciamo sta Dai Vai Allora Preferiresti Sapere a memoria Tutte le ricette del mondo Ok Oppure Che la tua ricetta Sia la più famosa Nel mondo Una tua ricetta La seconda Però pure la prima Era molto bella Perché se sei tutte le ricette Del mondo Sei molto Colto Però La seconda Dai sei famoso Per la fama Tu dici Ti conoscono tutto il mondo È come se ti sei inventato E tirami su Sì Eh sì E invece tu Anche la seconda Anch'io Ma tu già sei famoso E infatti No Famoso del mondo Secondo voi Le ricette Se se la ricordano tutti La mia Chiedo Questo è una delle risposte Le ricordo solo cose inutili Preferireste vivere In un giorno del passato A vostra scelta O in un giorno del futuro A vostra scelta Del passato Del passato E che giorno scegliereste No io non posso dire No 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 Allora facciamo di Andrea No no È lui che mi ha consigliato Infatti Nonno No non lo dì Non lo dì Vabbè dillo Ma che c'è prega No no È un prefinito Ma tanto Ma che c'è prega Non siamo al lupo Ma tanto chi lo vede Questo podcast Eh Ma chi lo vede Vabbè stavo con una bella ragazza Dai Eh No in quel giorno là Ah Ah ma quindi È un giorno del passato Che abbiamo vissuto No un giorno del passato No Quale è quello che ti pare No qualsiasi giorno Quale ti pare Allora io vado in Antica Roma Un giorno in Antica Roma Sì 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 Un giorno del passato Sì 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 Eh La domanda È completamente aperta Quindi può essere pure Una preistoria Io un giorno Ma voglio far filoso Ma io cerco adesso Nel prima né dopo Vivere il presente Ah No vabbè È una cazzata Perché Vabbè No io futuro Stai cogli un attimo No tutti dicono Ah devo non pensare Passare il futuro Allora io sto No una stupidaggine Però io sto No la scelta è passata Sì Io Io forse direi Un giorno Non lo so Io futuro Io futuro Dici Sì Nel pubblico Dal pubblico suggeriscono Un giorno in pretura Scusami No tu scegli Che ne so Marco A te che sei un appassionato Dal pubblico Hanno suggerito Un giorno in pretura E che c'entra L'obiettivo L'obiettivo secondo me Perché Che ne so Se l'obiettivo è fare soldi Te dici Io voglio sapere St'altro anno Chi vince la Champions League E ci metti tutti i soldi Che c'è Ma non vale così Allora dipende dall'obiettivo Infatti ho detto Magari invece L'obiettivo è scoprire Come vivevano Mille anni fa L'obiettivo è scoprire Invece è scoprire Eh no Perché lui Te l'ha fermato la prima Sei scoraggiante Ragazzi Il podcast finisce qui È stato un piacere Cioè Tutti i podcast futuri Finiscono qui Allora Cioè siamo un po' encartati Ma scusa Ho sempre le stesse domande No no cambiano O cambiano ogni puntata Allora la bruttezza C'è la qualità è sempre questa C'è La qualità è sempre questa Però diciamo Cambiamo in base alle persone Perché c'è Lui è La serpa insieme L'altra volta ha detto Il suo podcast Sembra che c'è il budget Ma in realtà Non c'è il budget Ha detto Ovviamente Non ti registravamo Adesso Vabbè vai vai No no Continuiamo così Io sono il vostro Beppe Grillo qua Cioè adesso io Allora Preferireste non sentire più I sapori salati O quelli dolci Dolci Sì pure io Dolci Però vanno insieme Cioè quando cucini In piatto salato Senti pure la dolcezza Alla fine no Eh però se no Poi più senti Però no Poi più senti Cioè Vabbè allora dolci Dolci però Stanno proprio insieme E quando cucini No ti riprendi con me Io Ma che domanda è Scusa Non è la domanda È la vita È così Ma è la vita Scusa Ma è una scelta assurda Vabbè Infatti Cioè nel senso Non è che c'è più probabilità Di andare nel futuro Nel passato Rispetto a non sentire i sapori Hai ragione E comunque Sì ho capito Ma quella posso avere una scelta No questa non è Non è fattibile Vabbè no Perché magari Ti senti soltanto il salato Vabbè ok Cioè nel senso Magari ti mangi il tiramisù E sembra polistirolo Esatto E poi invece ti mangi la pizza E comunque c'è più sapore Però il pomodoro della pizza È dolce anche Vabbè Ti prendi quello che è E sarà Un po' di polistirolo Pure la pizza Vabbè 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 L'ha fatto arrabbiare Vabbè bravo L'ha fatto arrabbiare Dolce Dolce Ok abbiamo detto Dolce Tutti e due hanno scattato il dolce Posso farne uno Io Conduttore Sei l'host Ah sì sì Poi tu sei Osta Tu sei Oste Portaci un altro ritro Questa secondo me è interessante Se ragionata Preferiresti Passare cinque anni in carcere O dieci anni in coma Cinque in carcere Cinque in carcere Tutta la vita Tutto uguale Abbiamo detto Cioè di nuovo Cinque anni in carcere Poi io Vabbè Ma in carcere Devo pure divertire Magari Cinque anni in carcere Ma sì Vabbè Dipende che è carcere Vabbè Uguale Qualcosa fai La Bibbia Mi hanno detto che Si sta male Si sta C'è pure un paio Coeli Coeli Però diventi Romanovero Esatto E c'hai vicino Trapizzino O che io no Io sicuramente Coma No Io sicuramente Coma Cento per c'è Lo sai che c'è Dieci anni in coma Non te ne accorgi Eh capito Cinque anni in carcere Te ne accorgi È quella È quella il trig Però comunque Te ne accorgi Un'esperienza di vita Io comunque Ho conosciuto Che ha avuto Quell'esperienza Comunque Un qualcosa Ha portato Ma trent'anni fa Si facevano La carcere De passaggio Ci andavano tutti No ma infatti Io sono molto dubbioso Perché dieci anni Sono botto Però percepiti È come quando Adormenti sull'aereo Capito Ma te risvegli Dopo dieci anni Ho fatto splash Che chiudi gli occhi Te hai svegliato Cioè te te hai svegliato Sull'aereo Che pensi Che sei stato in coma Dieci anni Allora ho fatto Una battuta Anni 80 Ho fatto splash Era un film Dove uno si addormenta E si risveglia Dopo trent'anni dopo E quindi Era tipo Stato in coma Dieci anni Ma trent'anni E si è andato a vedere Vabbè No E tu è andato a googolare Vabbè sì Io non conosco Manco io Vabbè è una cosa Io purtroppo So arenato A sti ricordi Antichi Prestorici E per me sono normali No sì Ma manco troppo Perché tra me e te C'è meno differenza Che tra me E Michele Che sta là È Ruben pure No? Cioè È Ruben Io mi porto male Mi porto male Ma ho 25 No no Però ho 25 Secondo me Eh sì è vero È vero 25 40 Ha sbianchato Allora ragazzi È stato un piacere Grazie C'è 40 anni Non è vero Non è vero Non sai quanti te ne davo Massimo Massimo 28 Grazie 50 euro No è vero C'è là C'è là Lui se li prepara 28 te ne davo Giuro No no 40 40 40 anni fai podcast 40 anni fai podcast Hai capito Hai capito Per non sta a casa Con un ragazzino Che tocca a fare Prefio c'hai Eh certo No bene L'altro giorno mi ha detto Suonano d'audio Perché era un po' sparito Dai radar Mi ha detto No ho fatto Sta vacanza Col bambino Però Secondo me io devo trovare Un altro nome Perché Con un ragazzino Non è una vacanza Cioè A vacanza con un ragazzino Non è una vacanza È un'altra cosa Cioè con un ragazzino De un anno Che lui è come Un umano De 80 centimetri Che si vuole uccidere Ogni 6 secondi Quindi è questa qua E lui Cioè tu devi salvagli La vita ogni 6 secondi È così Capito Tu Hai mai visto Lost Hai mai visto Lost Che quello E la mamma ti aiuta In questo A salvarti la vita No certo Ah no no Quindi Che a volte Facilitano il gioco 6 secondi 6 secondi Quindi ogni 12 secondi Tu devi salvare la vita Capito Come Lost Quello c'è il conteggio Ogni 30 secondi Devi spingere il tasto Tu uguale Non puoi dormire È così Ma raga è così Io non ce la faccio Non so Io so pro famiglia Però tu Non volevo scoraggiare Ma è così Io so pro famiglia E ve lo dico È così Allora Preferireste Perdere sempre O non giocare mai Però perché lui ride Però Che bello Insieme Uno due tre Perdere sempre Non giocare mai Non mi piace Perde Dai Non mi piace Perde a me E che fai in gioco Il gioco Il gioco De preferiresti Regano Non è vero È possibile Che non perdi sempre Dai Ma fra le domande Proprio un possibile No E ti devo dare la scelta Assurda Perché No perché A parte Saranno tipo tre mesi Che mi faccio una partita A carcetto Però Se mi dici Non giocherai mai più a carcetto Per tutta la vita tua Direi Preferirei perde Forse Io per esempio Perché non so Proprio competitivo Io sono una persona Zero competitiva E pure nel Nel senso Nel lavoro E tutto Io vado dritto Per la mia strada Indipendentemente Da quello che fanno gli altri Quindi non è che Se quello becca Più soldi Più clienti Più vendite Io se sto contento di mio No bravo Il porto a poco No Il porto a te lo vive così Io lo so al contrario Io invece ho mio fratello Che se giochiamo a padel Contro Mizzio Che non c'ha una gamba Se non vinciamo Lui non ci dorme No E quindi Pratico io la competitività Proprio Io sono super competitivo Quindi se mi dici Perdi a tutto Ma piove male Quindi forse Però Stavo a pensare La cosa più stupida Che è una partita di carcetto Mi toglie il carcetto Per tutta la vita Che ti ripeto Sono tre mesi che in gioco Mi piove male pure Poi ti ha 40 anni E tu dici l'ortopedico Vado Allora Preferiresti viaggiare In tutto il mondo Ma non poter più Tornare nel tuo paese O non lasciare mai il tuo paese Cioè che un po' più partì Un po' più partì Come è stato il 2020 Uguale Cioè il 2020 perpetuo Esatto No io viaggio in tutto il mondo 100% Ma quello pure io Quindi il balcone A canni Sì sì no Vabbè esistono Il palazzo aduviani Un po' dappertutto Vabbè però è un'altra lingua No no mi piace proprio La pezza dell'Italia Secondo me È che si parla italiano Solo in Italia È vero È una pezza Penso se eri spagnolo Comunque andavi in Sud America Tranne il Brasile Ti parlava una lingua tua È vero È bella svolta Vabbè Decisità fa virtù È bella svolta No vabbè hai fatto la lingua Ma non lo vedo come un ostacolo È però comunque Vabbè te stai Io rimanere in Italia Comunque non è piccola C'è tanto da girare pure in Italia Sarà che il mondo L'ho girato tanto Nungo e largo Ma infatti è una cosa Stai ma Trapizzino In che paesi sta Ora sta solo a New York Però è stato un paio d'anni In Giappone anche Dal 16 al 18 Io non so perché Ma la mia ragazza Ha vissuto un po' in Australia In Australia Siamo stati sei mesi Però era una pop up Stavamo dentro un mercato A Melbourne Infatti Perché lei ha vissuto a Melbourne Infatti Ah lo ricorda Facciamo tutti i mercoledì Ah sì Perché a me è arrivata voce Però poi Quando sono andato Non l'ho trovato Quindi era finito Melbourne la spacca Grande città Non mai stato Non mai stato Io ho vissuto un po' a Londra E basta Melbourne è una grande città E quanto Quanto cambiano i gusti? Assolutamente Zero Zero? Certo Perché noi Chi sceglie Trapizzino Cerca identità Cerca Italia Italianità E quindi noi dobbiamo essere fedeli al nostro sapore E quindi dobbiamo cercare al 100% di dare quello che diamo in Italia Perché chi ci viene a scegliere cerca la verità Qualche Trapizzino nuovo ho fatto ogni tanto? Sì ma se parte da Roma Eh no sì sì Italiano Romano Sì 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 Però ho fatto ogni tanto Però non è che ci adattiamo al gusto americano come fanno tanti no? No no non dicevo quello Perdonate forse mi sono posta male la mia domanda È che quanto è difficile scardinare un gusto diverso Nel senso che i miei genitori hanno un negozio storico di alimentari sempre a Trastevere no? E spesso C'è un po' di cose con Olive Grege Tipo? A Sergio Esatto E sei te? No 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 Cosa stava a Campo dei Fiori Nel negozio dei genitori ma secondo me lo conosci? Ciao Greghi Antica Caciara Ah voglia E mio padre E tipo spesso mi intrippo perché Ciao tutti Ciao No piccola easter egg È entrato nel trip Sergio Adesso non ci voglio Ciao ti chiamo a Sergio Piccola easter egg Il signor Vittorio Che era proprietario di quel posto dove hanno girato quella scena Ha lavorato E tipo delle brega È andato È lavorato 15 anni da mio padre Il proprietario No signor Proprietario di? Del negozio dove hanno girato quella scena Ah ok Poi una volta che ha chiuso il negozio Che stava dietro Campo dei Fiori Ha lavorato da mio padre tipo 15-16 anni Signor Vittorio Grande E Il negozio dei genitori in marca tipo ci fanno i tour I turisti adesso Vabbè Dunque la cosa è questa che Ti faccio un esempio Per me è normale Che dico Panino col prosciutto Ok Perché il prosciutto è buono Mangio quello Vabbè Invece l'americanone se ne ci mette 12 cose Per lui Nel senso Prima le cose ti chiede il pesto Allora invece metti un po' di pesto sopra Perché il pesto lo si mette dappertutto Ok E I miei cercano di spiegare il fatto Quando non c'è Siccome il prodotto è buona Sì non cercano di fare Penso a una gelateria Allora mi fai un po' la cacciatura Poi mi ce ne metti La salsatella Un po' di parmigiano E quello no? La salsate verde Non esiste E infatti dico Noi diciamo Nonna sa rabbia Nel senso Scherziamo Però No Perché La storia ci insegna Che ne so Quante volte hai sentito di Ah Il ristorante cinese a Londra È vero Mica come in Italia Che Lì ce la fanno Il cinese vero Oppure in America Mangiano Il cibo di tutto il mondo Perché sono pronti A Multiculturale No E quindi assaggiano Il vero indiano Il vero E anche noi E io ti porto La coda vaccinale Ti porto La matriciana Ti mangi così com'è Loro cercano L'identità vera Poi è vero Che l'americano Tende a Mettere ketchup Però È vero anche Che se te c'hai Un'identità forte Lui ti cerca Per quello che sei Quindi te devi essere Fedele a quella Aderente alla realtà E quindi Non devi transiggere No no Questo è stato Così Perché ti scelgono Ti cercano Proprio perché Sei identitario Sei È vero Poi penso pure Che bisogna educarlo Quindi Questa paura nostra Te vuole venne Per forza Il panino in più Allora Metteci pure La maionese No Noi so così E ti vengono A cercare posta Se no Che venivano a fare Cercare Ma infatti Secondo me È la decisione Secondo me Che ti ripaga Marei sul lungo termine Perché Cioè Accontentare il cliente Lì per lì Marei ti ripaga Sul breve No che Marei Qua la serata Fattori di più Se quello ti sceglie Perché sei così Esatto Però poi magari Non apri 20 negozi Capito Stavo dicendo Che bisogna educare Il cliente Secondo me Sempre Oppure c'ho tanti Io faccio lezioni Di cucina Ai turisti Faccio cene private Ai turisti E io faccio Lo chef privato E tante volte Quando vedo Che Mi dice Veramente Gli faccio la pata Di ravioli E mi dicono Che c'è l'è il ketchup Io magari ce l'ho Io dico no No Non te lo tolto il ketchup Non te lo mangi Il ketchup Perché Perché non esiste Oppure quando vedo Tagliare spaghetti Faccio guarda È facile Gli faccio vedere La forchetta Si fa così Perché bisogna educarli Pure all'estero E come diceva lui L'identità Loro la cercano Vabbè ma ci sta Alla fine ci sta Perché noi Per noi In Italia Poi soprattutto Cioè ci abbiamo Noi abbiamo una cultura Che nessuno ha Io ho tanti clienti Però immagina Che se vai in Cina E ti danno da mangiare I scarafaggi Non sai come mangiarli Quindi anzi No esatto No esatto Siamo settati Se lo vuoi mangiare Noi siamo veramente capaci Abbiamo un'alimentazione Talmente vasta Però allo stesso tempo Precisa Questo se mangia così Questo se mangia così Che noi veramente Possiamo educare le persone Purtroppo all'estero Ho tanti clienti inglesi Americani Australiani Non ce l'hanno proprio La cultura Io la cosa Non c'hanno gli orari Non c'hanno il modo di mangiare La cosa che dico sempre Che è pazzesco in Italia Che ogni paesino C'è nemmeno regione C'ha i suoi piatti tipici E per dirti Io C'ho la mia ragazza C'ho lo zio Che è tedesco E sono andato in Germania Alla fondamentalmente C'hai quei due tre piatti tipici Ma si mangia proprio male in Germania Sempre G7 C'è una che sta a parlare Dell'ultimo paese Io volevo andare a lavorare a Berlino Però noi siamo abituati male Quindi Noi chi? Fondamentalmente Noi italiani Siamo abituati male Nel senso buono Ah ok Certo Certo No no infatti Infatti come si mangia a casa Non si mangia da nessuna parte Come si mangia sul balcone Non si mangia da nessuna parte Anche Anche Preferiresti Non cucinare mai più Sì Oppure poter cucinare Solo con uno strumento Ma è ovvio Poter cucinare solo con uno strumento Eppure è bellissimo È solo una padella Spirito di adattamento Al cento per cento Mi metto pure a tagliare con una padella Non è frustrante No È più frustrante Almeno per me È più frustrante non cucinare Io non riesco a stagiorno senza cucinare Figurate per sempre No no Sì Infatti Andrea Perché Andrea È la bocca della verità di Ruben Perché Ruben Dice che lui Quando si arrabbia Cucina E infatti lui Sono nervoso Guarda io Lavoravo in uno stellato Quando ero piccolo Facevo Lo staggista in uno stellato E mi trattavano male Chi è? Solo cognome No 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 basta Ce lo dici Andrea Andrea Poi te lo dico No no Ma io sono È stata un'esperienza bellissima Ho fatto due anni Eh ovvio Ma perché ho fatto prima Per resti leggere il pensiero Adesso hai scelto Legge il pensiero Dai insomma Vabbè Come sia Nel primo anno Mi sono trovato molto bene L'anno successivo Mi sono trovato male Mi trattavano un po' male No? Come si fa in tutti i stellati La maggior parte almeno E io uscivo là Proprio che piangevo Che ero triste No? Però tornavo a casa E per rilassare Per i piame Mi mettevo a cucinare Mi mettevo a cucinare Tutto il giorno Sotto pressione Sei lento Non sei buono Che fai Fai schifo Ma magari Tornavo a casa Ero un po' triste E mi mettevo a cucinare Così mi riprendevo Dai No Sarà che io Sono d'accordissimo Perché a me tipo Io sono uno che lavora Sotto pressione Malissimo Cioè no io Sì sì Posso confermare No io quando lavoravo Per aziende grosse Io ho un'attività mia Però ho cominciato Lavoro presto Quindi lavoro Per aziende internazionali E quando Sotto pressione Sono quelli che Sotto pressione Rendono al 1000% Io sotto pressione Spengo Da niente Sì perché Non è il mio tipo di lavoro Cioè nel senso A me piace lavorare In un altro modo Anche perché poi penso che Non c'è necessità Cioè Spesso Determinati ritmi Determinati comportamenti Sono più dati perché Ti piace Esercita il tuo potere Piuttosto che Perché c'è la necessità Di fare quella cosa lì Quindi nel senso Perché magari C'è pure la possibilità Di lavorare Tutti bene Tranquilli Ma veloci comunque O comunque Portando a casa Il risultato Sì sì Senza tutti Però magari Che ne so I programmi che abbiamo visto In televisione Abbiamo visto tutti Health Kitchen Questa roba qua Perché se non sbattevi Non sei bravo Quindi Ma quelli riproducono Una caserma Però in caserma Si mangia male A casa si mangia bene Dove c'è affetto Amore Tranquillità Quindi Cioè sono modelli Che non pagano Secondo me Poi è giusto Se ci sia disciplina Ordine Tutto qua Ho lavorato Insomma Ho lavorato In qualche ristorante E ho sempre pensato No ma io Ricordo bellissimo Nel senso È stata un'esperienza Che te fu Tenta Mi ha affancio È stata un'esperienza Bella Che comunque Mi ha formato Però è stata Molto difficile Il secondo anno Il primo anno Ripeto Mi ero trovato Molto bene Però è stata difficile Proprio a livello Ma ci stai Comunque Eri super giovane Sì Avevo 17 anni In un ristorante Di due stelle Michelin Sai Devi proprio A scontrare Con una realtà Diversa Ma col senno Del poi Era motivato Quello che ti veniva fatto Ma no Assolutamente no Ma a parte Non è che Non è che No no Però dico Stefano Magari lo sai La vita degli stellati Non è facile Non è facile Non è facile Ci sono messato Qualche volta cliente Però Vabbè Io non Ci sono stato Comunque A Londra Per esempio Quando sono arrivato A Londra Lavoravo in una cucina Dove erano quasi tutti italiani Ma io non parlavo inglese E gli italiani a Londra Magari tu ti aspetti Che ti aiutano Invece Ti fanno subire Quello che magari Hanno subito loro Questa inferiorità Da italiano All'estero Quindi magari Ti trattano male Quindi magari Non ti aiutano Spiegando di quello Che devi fare In italiano Te lo dicono in inglese Ecco Lavoravo con persone così Che mi hanno fatto soffrire Anche quando stavo a Londra Però ho capito Che bisogna imparare Anche da queste persone Bisogna imparare Come non essere mai Quindi io magari Anche adesso Con i miei aiuti uochi Con la gente che mi aiuta Quando vado a fare Gli eventi privati Cerco Sempre anche se magari Mi fanno arrabbiare L'umanità Di non essere mai così Proprio l'umiliazione È proprio una cosa brutta Lo stavo dicendo Cerchi di essere umano Certo Ma anche perché Dopo che umili una persona Davanti a tanta gente O comunque davanti Una brigata di cucina Tu pensi che E questa umiliazione Lo porta a lavorare meglio I dieci minuti successivi L'ora successiva No Si sente una merda E non Lavora Non produce Come dovrebbe Come dovrebbe fare Assolutamente È molto meglio Spiegare una cosa con calma O comunque Se ti devo stir là In separata sete E sicuramente Nobilita molto più La persona con cui Tu stai parlando Allora Anch'io rispondo Sì Alla grande Com'era la domanda Preferiessi Lavorare Non cucinare più No Cucinare solo Con uno strumento Con uno strumento Anche perché Io una cosa insegno Sempre ai ragazzi È di usare Che ne so Se rompe la bilancia Oppure vai a fare un catering E sta in mezzo alla campagna Non sai come fa Tante volte Noi cuciniamo In spiaggia Di fare un impasto E quindi Che ne so C'è una bottiglia Sai che è un litro Un litro e mezzo No Quindi l'acqua Ce la metti E te Con un bicchiere Di carta Te devi vedere Quando è pieno All'orlo Quanto Te quando stai Al laboratorio Te lo pensi De sale De olio De acqua I cucchiaini E il cucchiaino Quindi sai che Un cucchiaino Di lievito secco Sono 3 grammi Un cucchiaino Di sale Sono 8 Un cucchiaino Di zucchero Un cucchiaino A cucina Sono 25 grammi E quindi Te c'hai Delle cose normali Che puoi trovare In un evento In un picnic Camice E te sa orientare Quindi Se c'è una ricetta O c'è qualcosa Te sai Più o meno Come lui dice Taglio la padella No La metti a becco E fai E taglio E così Devi sapere Con uno strumento Banale Che trovi In qualunque Picnic Te sai che so 110 grammi D'olio 120 di sale Cioè Con quel bicchiere E non di pesante Serva la bilancia E questa è una cosa Che te devi fare Un tuo repertorio Una tela Della scalia Che te la ricordi O te la metti Sul cellulare Fai tutte le prove Pesi E più o meno De barcamenti Con l'occhiometro E quindi Mi hai fatto ricordare Sta cosa Che secondo me È importante Per Per Andavanti Anche i momenti Che ne so Manca la curente Ma Capito È un po' timido Vi ha portato Dei regali Dal suo shop Intrastevere Vi vogliamo dare Vado Ma lontano Perché chiaramente In tutto questo No devo assemblare Che ovviamente Ci entrano molto Con il vostro lavoro Dove vai? Allora Questi sono Dei Dei gentilissimi Omaggi Del nostro sponsor Che anche Esso Non sono vostro sponsor Io non ho cacciato S'altro anno sei il sponsor Cioè l'olicottero E non lo pago Non so se può mai sapere Magari ci scrivo Questo va per Ruben Lo apro Lo apro E certo Comunque è già fuori C'è Pasta e guanciale Uovo pecorino e pepe Un ottimo spaghetto Con le vongole È un ottimo spaghetto Con le vongole E questa È giusto È per Stefano Grazie La pizza non si giudica Ecco l'avevamo già detto prima Dico sempre La pizza è uguale per tutti Ottimo Devo aprire La panna è quello che Dove dove Dentro là Bellissimo Grazie È anche il mio compleanno Dopodomani La maglietta d'aglia La potresti far arrivare Per il suo compleanno Eh ma la facciamo arrivare Tanto da dove sto io A Monteporzi Dove sta lui Stiamo andando passi Monteporzi o Catone Esatto Ma in che piazza hai Di Monteporsico Io vicino a Piazza Le Torte È famosa Ma pensa È proprio là È proprio esattamente lì Comunque ragazzi Per me è stato bellissimo Non so per voi Io direi Che ci vedremo Sicuramente In balcone da Ruben Perché Noi dobbiamo organizzare Sta cosa degli elicotteri Io non credo proprio Questa cosa degli elicotteri Comunque Andrà fatta Da trapizzino Manco te lo dico Non so se ci stai Ma te Do stai? E io Deambulo Per la città Deambuli Sì Il tinero Lui è fantastico Ha capito Il tinero Questa è una Questa è un battuta È nomade Forse questa Ma può dormire qua? Non so Può decidere Stefano può fare tutto Vabbè però io direi Tanti anni Però Divertente Insieme Faremo Sì Come possiamo fare No Ru? Cucino io 10% 106 Da romane Cucine io Tutte varie pizzerie Pizzerie Terapizzini A Maccarese A Maccarea A Tonda A Montese Vabbè Sono persone Varie location Spanco Potremmo fare una bella puntata di forum Col p***o E facciamo Troviamo subito la pace E qua diciamo Con Anthony Aspetta ripeto questa cosa Che non si capisce male Io Lui si è trovato benissimo Il primo anno Il secondo anno Però da paura Vabbè Non succede niente Secondo me questa è l'ansia da influenzare Che nessuno Dice Sì Guarda quello Stamfiore Guarda lui non c'ha l'ansia da influenzare Stamfiore Lui sta a rilassare Sta a ubriacolesso Te credo non è l'influenza Sta a ubriacolesso Stai fatto del bire Esatto Cos' andiamo a fare la quarta Ragazzi Grazie mille Grazie a tutti Ci vediamo su Grazie a voi YouTube Spotify Spotify Instagram Su TikTok a breve Da ristorante Travit Davertutto Al cinema Al cinema Tra un po' S'ha trana S'ha prossima stagione Dai Beh Ok S'ho tagliato per il grande schermo Grazie ragazzi Ci vediamo Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.